Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono al parco con Jimmy perché finalmente Jimmy torna ad allenarsi L'ultima volta che ci abbiamo provato è arrivato il diluvio universale, oggi in teoria Jimmy ti prego dovrebbe reggere Quindi facciamo un allenamento conditioning, quindi total body però non troppo cardio e né troppo focalizzato sulla forza Un workout che cercherà di far iniziare a muovere sto figliolo, quindi ci alleniamo insieme E adesso vi faccio vedere gli esercizi, sono 5 e faremo 40 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa Quindi ogni circuito durerà 5 minuti e lo ripeteremo almeno 5 volte, 25 minuti, cercheremo di arrivare fino ai 30, quindi 6 giri Ma potete farne quante ne volete fin quando durate Quindi, primo esercizio Mi spiego sulla lunghezza, mi spingo a lato, cerco l'equilibrio e vado dall'altra parte Cerco di non appoggiare il piede Mi aiuto con le mani, la gamba che va dall'altra parte, braccio opposto, aiuta Poi nel momento in cui lo fai, sei anche più concentrato Ok? Quindi, 40 secondi, dipendentemente dalla lunghezza che avete Secondo esercizio, i moving plank, walking Quindi, mani per terra, mi raccomando, se siete in luogo pubblico, dopo, igienizzatele Noi abbiamo l'igienizzante Quindi, parto da una posizione di plank Porto le mani avanti e cammino con i piedi fino a ritornare in una posizione di plank Ogni volta cambio mano In questo lavora tantissimo l'addome, il core e le spalle, ovviamente Ok? Quindi abbiamo fatto gambe, appere e addome Dove l'addome in realtà era stabilizzatore Quindi adesso ci concentriamo molto sull'addome Con i rush and twist Quindi, terzo esercizio, rush and twist Non mi andare troppo sotto, amore Ah, te garbano a fare le riprese Anche ieri, alcune foto Faccio un provino per playboy Come? Faccio il provino per playboy Dovete fare con i piedi alzati o per terra Mi raccomando, non inarcate la schiena Aprite il petto e... Petton fuori Rotate, ok? Sempre 40 secondi Quarto esercizio si fa in realtà in coppia Quindi dopo lo vedrete meglio Ma si sta in plank Da qui Apro, chiudo Su, su Ora sembra che io stia mandando a quel paese qualcuno Ma in realtà Jimmy sarà davanti a me E noi ci daremo il 5 Ok, quindi rimango giù in una posizione di plank Salto Salto Non alzando il sedere Quindi non è... E non si piegano le giaglie Sotto E non si piegano le ginocchia Ok? E poi Ultimo esercizio Sempre di coppia Lo vedrete meglio dopo Ma praticamente è un Burpees di coppia Dove Uno Sta in plank L'altro Accanto Lo salta E si mette accanto E poi questo fa questo Si alza Lo salta E si mette accanto Quindi questi ultimi due sono di coppia Li capirete meglio adesso Noi iniziamo il workout 5 minuti per circuito Ne faremo almeno 6 Eh? Eh? Let's go! E se mette accanto E E Eh? Oh Ok? Eh? 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 Grazie Grazie Ok Ora abbiamo il Russian Boost No, di là Di là C'è il sangue della macchina E vabbè, qual è il problema? Quali sono? Quelli così Ciao ora abbiamo il plank perfetti non 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 Sì, lo facciamo per così. 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 Sì. 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 Grazie a tutti Ok io sono un tavolino, se sei un ponte Quindi finito un giro alla Saltelli Dopo i saltelli che cazzo scegli? Ah, quelli camminati Poi scegli gli abs Quindi sono quattro esercizi Sono cinque, poi c'è il clap clap Ok, ab, clap clap e salto Grazie a tutti Grazie a tutti No, le scadine vanno piccate su un piede Vanno piccate su un ponte Quindi io No, le scadine vanno piccate su un ponte Cos'era ora? Un'era... No, le scadine vanno piccate su un ponte No, le scadine vanno piccate su un ponte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vai, continuo Basta Non so, mi fa perdere il ritmo e poi... ...e... ...clappe Grazie a tutti. Dai, ora abbiamo i saltini. A me lo pigliamo per tre. Cerca di lanciarlo oltre. Sì, fiume, vai. Vado io? Sì, vai, vai. Sì, vai, vai. Sì, vai, vai. Sì, vai, vai. Vai, terzo giro. Un quarto d'ora, fai. Sei? Sì, vai. Sì. Sì, vai. 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 Sì. Sì, vai. Sì, vai. Sì, vai. Sì, vai. Sì, vai. Sì, vai. Sì. Sì, vai. Sì. Sì, vai. 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 Vai l'ultimo. Cerchiamo di farlo proprio sul posto. o comunque un, due, tre quindi l'ultimo quella lato rimbalza sempre ok? allora vai vai ok? Siamo a 22 minuti. 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 Siamo a 23 minuti. 2, 2, 2, … 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. ci potremmo avvicinare in realtà mezzo, mezzo io alzo un attimo la fotocamera, aspetta sei? 3, 2, 1, fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 vai, vai, vai dai dai vai cosa basta? ne c'è ancora uno quanto riposo? io sono pronta ecco, porca boia vai, vai pronto vai che è l'ultimo aspetta vediamo se 1, 2, 3 1, 2, 3 vai 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 Quanti di questi? Dieci, dieci! Ora me lo chiedi, è l'ultimo! Basta, basta! Workout completato, Jimmy come è stato? Bello, 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 basta! La prossima volta, pausa, cambio, cambio! Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi state allenati con noi! Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento! Se volete un altro video di coppia, scrivetelo qua nei commenti! Un grande abbraccio, ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! ahhh